salve a tutti e benvenuti nel mio canale il meccanico oggi farò vedere questa fantastica fiat cubo che è in vendita è una cubo del 2010 1400 natural power sarebbe metano di fabbrica casa madre benzina metano e l'auto a 227 mila chilometri è stato appena fatto il tagliando completo la cing distribuzione a 200.000 quindi non c'è da fare nulla meccanicamente perfetta perfettamente funzionante frizione cambio perfetti revisionata di recente anche le bombole l'auto si presenta in ottimo stato come potete vedere 1470 cavalli guidabile anche da neopatentati consumi bassissimi ora vi farò vedere un po gli interni ottimo stato autoradio bluetooth usb aux viva voce c'è tutto insomma ecco dietro molto comoda a questi sportelli grandi molto alta i sedili si abbassano si tolgono se dovete caricare fare qualcosa di lavoro una macchina molto utile la trovate sempre nella mia pagina king auto corridonia che allegherò il link qui sotto al video lì potete vedere l'annuncio l'inserzione di quest'auto con tutte le iscrizioni prezzo tutto quello che vi serve sapere anche il numero di telefono chiedere qualsiasi informazione l'auto disponibile a qualsiasi prova effettuo anche consegna in tutta italia quindi la portiamo a casa passaggio immediato pronta all'uso non c'è nessun lavoro da effettuare l'auto funziona benissimo quindi come ripeto per qualsiasi informazione c'è il link qua sotto al video in basso ok questo video finisce qui ci rivediamo come sempre alla prossima metti mi piace seguimi e ti vorrò va bene grazie alla prossima ciao ragazzi